Benvenuti ragazzi sono Karia e Sergi Siamo tornati con un nuovo video Questo è un video un po' particolare Si ho capito le mani Così a caso Ehm Un video un po' particolare Perchè come vedete Siamo su un video Siamo sulle sponsorizzazioni Ho deciso anche di fare le sponsorizzazioni Perchè appunto Questo ragazzo mi ha venuto a chiedere una sponsorizzazione E appunto lo sto sponsorizzando Sono G Swag Fanno video principalmente di calcio Challenge di calcio Sfide di calcio Ma fanno anche altre cose Vi consiglio di iscrivervi Perchè sono davvero molti bravi Molti bravi Ok Perchè sono davvero molto bravi Quindi iscrivetevi perchè meritano davvero tanto Ho deciso di aprire le sponsorizzazioni E quindi I tre più attivi Sul mio canale Saranno sponsorizzati Quindi dovete ovviamente essere iscritti al canale Lasciare like ai miei video E essere attivi nei commenti E io vi sponsorizzerò I tre più attivi saranno nel prossimo episodio Quindi direi che per questo episodio Da Cori S è tutto Se volete essere sponsorizzati Ovviamente scrivete Seguite le istruzioni Di questo video E niente Questo episodio da Cori S è tutto Ci vediamo nel prossimo episodio Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al loro canale Ciao 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 Ciao